La mia sarebbe più bella con un po' di porporina! Per favore, possiamo avere la porporina, madame gazzella? Porporina! 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 No, la porporina si sparpaglia ovunque, è difficilissimo liberarsene una volta che si rovesce, è una vera e propria seccatura! Però è così speciale e magica! Per favore, possiamo avere la porporina? Per favore! Oh, e va bene, ma ha una condizione! Promettete solennemente di fare molta, molta attenzione a non rovesciarla? Sì, promesso! D'accordo, vado ad aprire l'armadietto della porporina! Madame gazzella tiene la porporina ben chiusa a chiave! Ricordate bene, avete promesso di usare la porporina con molta, molta attenzione! È ora di tornare a casa e i genitori sono venuti a prendere i figli! Oh, porporina! Niente panico! Prego, restate calmi! C'è stata una fuoriuscita di porporina, ma la situazione è sotto controllo! Oggi hanno tutti lavorato alla creazione di maschere! Oh! Io ero venuto qui per portare a casa Peppa e George, ma non riesco a vederli da nessuna parte! Io sono una bella farfallina! Svolazzo, svolazzo, svolazzo! Chiedo scusa, signorina farfallina, io sto cercando due maialini! Sa dove posso trovarli per caso? Va bene, ci ho preso in giro! Visto, sono io! Peppa! Ma che sorpresa! Dove sarà finito George? Wow! George, ma sei tu! È io che ero convinto che fosse un dinosauro! Madame Gazzolla, non riesco a trovare Rebecca e Richard! Mi dispiace se invece porto a casa queste due carote? Ma come? Mamma, sciocchina, siamo noi! Ecco, questa è la mia casa! Ma no, Molly, questa è la casa di Rebecca! Rebecca Coniglio abita dentro la collina! Ciao, amiche! Ciao, ciao, Rebecca! Molly è la mia nuova vicina di casa! Sì, e quindi dove abiti, Molly? Ci siamo trasferiti sotto la casa di Rebecca! Vieni a vedere! Le talpe vivono sottoterra! La nostra casa non è ancora finita! Ti presento il mio papà che la sta costruendo! Ecco il signor Talpa! È molto bravo a scavare! Ti piace la tua nuova camera da letto, Molly? È molto carina e comoda! Lei è la mia nuova amica, Peppa! Buongiorno, signor Talpa! Piacere di conoscerti, Peppa! Papà Pig è venuto a prendere Peppa! Sono qui! C'è nessuno? Oh, salve, papà Pig! Come posso aiutarla? Lei sa dove abita la famiglia di Molly Talpa? Sì, si sono trasferiti proprio sotto di noi! Come sarebbe sotto di voi! Sì, è davvero elettrizzante! Ciao, papino! Benvenuto, signor Pig! Prego, si accomodi! Scusi tanto il disordine, ma sa, stiamo facendo un ampliamento? Oh, lo sa, io sono un grande esperto di ampliamenti! Fatemi sapere se avete bisogno di consigli! È gentile da parte sua, ma... Perché servono professionisti per costruire una casa! Degli idraulici, elettricisti, architetti! A dire la verità, il signor Talpa e io stiamo facendo tutto da soli! Oh! Buongiorno, signor Pig! Buongiorno, signor Talpa! Ah, posticino interessante avete messo su! La ringrazio! C'è ancora qualche scavo da fare, ma... Il soffitto come si sostiene? C'è un architrave di acciaio oppure di cemento? Prego! Che cos'è un architrave? Beh, ecco... Il lato positivo di scavare una casa è che si può fare ciò che si vuole, dove si vuole! Mi sembra che non abbiano molto odore! Certo, perché sono fatti di plastica! Sono fatti di plastica? Sì! Garantiti per durare una vita intera! Se ne compra uno, ne ha quattro in omaggio! No, grazie, signor Volpe! Avete comprato anche del pesce! Peccato! Io avrei potuto vendervene di migliore! Niente pesce di plastica, grazie! Questa non è plastica! Beh, veramente lo è! Ma è un pesce giocattolo incredibile! Sentite un po' come canta! Bella stella in cielo stai! Brilla e non ti spegner mai! E servono solo 24 batterie! Oh! È bellissimo, vero, mamma e papà? Lo possiamo comprare, papà? No! Per favore! Lo possiamo portare a casa! Così canterà tutto il giorno! No, mi dispiace, Peppa! A casa nostra non c'è la necessità di un pesce cantante! E va bene! La ringrazio, signor Volpe, ma abbiamo già comprato tutto quello che ci serviva! Davvero! Ci sarà pure qualcos'altro di cui avete bisogno! Che ne dice di un antico vaso cinese che non si romperà mai? Perché è fatto di... di plastica! È veramente carino, ma non ci serve proprio niente! Grazie! Comincia a piovere! Ora ci bagneremo tutti! Niente paura! Ho qui quello che ci vuole! Ecco a voi degli ombrelli! Sì, li prendiamo! Grazie! Quattro ombrelli, per favore! Il banco del signor Volpe vende di tutto! Avete visto? È stata una grossa fortuna che siate venuti da me! È vero! Grazie di nuovo, signor Volpe! E la novità è che, soltanto per oggi, comprando quattro ombrelli, si riceve in omaggio un fantastico pesce cantante! Oh, che bello! Bella sera in cielo! Peppa adora il mercato! Tutti adorano il mercato! Guardate! C'è di nuovo Babbo Natale! Ciao, piccola! Di un po', tu come ti chiami? Peppa! Ah, non te ne sarai dimenticato! Dimenticato? Oh, no, no, no! Bene! Allora, ci verrai alla nostra recita! Recita? Ma sì, la recita di Natale! Oh, certo! Farò di tutto per venire, cara Peppa! Che bello! Ti aspetto! È il giorno della recita di Natale! Tutti i genitori sono venuti a vederla! Allora, siete pronti per cominciare? Non possiamo cominciare! Babbo Natale non è ancora arrivato! Ha detto che purtroppo era molto impegnato! Non sarebbe potuto venire stasera, Peppa! No, davvero! Ma guarda, ci sono i vostri genitori! Lo spettacolo deve cominciare! Fiocca, fiocca, viene giù! Tanta neve da lassù! E tutto bianco poi sarà! Gioia porterà! Io sono la fatina di Natale, faccio magie! Ho, ho, ho! Io sono Babbo Natale! Io sono l'infermiera e devo controllare se tu stai bene! Fai a... Tutto a posto, ora puoi andare! Bravi piccolini! Ho, ho, ho! Babbo Natale! Ti sei ricordato? Sei venuto a vedere la recita! Ed è stata molto bella! È vero che vai in giro per tutto il mondo la notte di Natale? Certo! Come fai a farlo? A bordo della mia slitta magica, trainata dalle renne! Bello! E ce la fai vedere la tua slitta? Eh, beh... Credo che Babbo Natale sia troppo occupato per mostrarci la sua slitta! È vero, in questi giorni sono molto occupato! Ma certo che potete vedere la mia slitta! Venite tutti fuori insieme a me! Oh! Eh, pirata della strada! Buongiorno! 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 Oh, ho, 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 ho! Peppa e la sua famiglia sono arrivati a Parigi. Eccoli! Sì, sono loro! Delfin Asino e la sua famiglia sono qui per accoglierli. Bonjour! Bonjour, Delfin! Bonjour significa buongiorno in francese. Papa Pig, a lei cosa piacerebbe vedere qui a Parigi? Ho intenzione di vedere tutto quanto! Ho, 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 ho! Mi dispiace, ma è impossibile vedere tutto quanto! In tal caso, gradirei vedere la vera Parigi, quella nascosta. Tutti quei luoghi in cui i turisti di solito non vanno. Bravo, Papa Pig! E mi dica, qual è il luogo della vera Parigi nascosta che avrebbe intenzione di vedere per primo? Ecco la Torre Eiffel! Oh, come vuole! Questa è la Torre Eiffel! Però, accipicchia quanto è affollata, immaginate come devono essere i luoghi turistici! Guarda, mamma, c'è la signorina Coniglio! Non sapevo che lavorasse qui, signorina Coniglio! Oh, excuse-moi, non sono la signorina Coniglio, sono Mademoiselle Lapin! Oh, chiedo scusa! Sovnir! Qui potete acquistare la Torre Eiffel in miniatura! La vera Torre Eiffel è molto più grande! Possiamo salire fino in cima! Ma mi sembra un tantino troppo alta! Papa Pig non ama le grandi altezze! Oh, ma non si preoccupi, Papa Pig! Prendiamo l'ascensore! Si sale! Per fortuna siamo arrivati! Oh, no! Questo è soltanto il primo piano! Adesso dobbiamo salire alle scale! Se hai le vertigini, Papa Pig, basta che tu chiuda gli occhi! D'accordo! Questo è il punto più alto in cui i visitatori possono arrivare! Ammirate che splendida vista! E siete arrivati al momento del pasto! I pinguini mangiano pesce! I pinguini sono molto bravi a prendere i pesci! E a dondolarsi! E ad ora non nuotare! Se guardate attraverso il vetro, vedrete i pinguini nuotare sott'acqua! Bravi! Sono dei veri fenomeni a nuotare! Già! È per questo che abbiamo una fantastica piscina per loro! Che spiegazione interessante! Grazie infinite, signora Coccodrillo e signor Leone! È stato un piacere, signora New! Gazzella! Ah, sì! Mi scusi, gazzella! Quale animale andiamo a vedere adesso? Eccolo! Già lo vedo! Quanto è alto! È una giraffa! Giraffa! Sì, quello è il mio papà! È anche lui un custode dello zoo! Buongiorno! Sono il signor Giraffa! Buongiorno, signora Giraffa! Ci può far vedere di quale animale si occupa lei? Provate a indovinare! Che gabbia grande! Guardate! Deve essere un animale selvatico e che vola! Forse si sta nascondendo e ci sta guardando! E aspetta di aggradirci! Oh, le farfalle! Il signor Giraffa si occupa delle farfalle! È il momento del posto delle farfalle, signor Giraffa! Già! E le farfalle si procurano tutto il cibo necessario dai fiori! È incredibile che riescano a vivere nutriendosi esclusivamente dai fiori! Piacerebbe anche a me mangiare soltanto dai fiori! Già! Con tutto questo parlare di mangiare mi è venuto appetito! Anche a me! Bene! È l'ora del nostro pasto! Che cosa c'è per pranzo oggi, signor Leone? Oggi è previsto pranzo al sacco per tutti! Un panino, succo di frutta e una bella mela! Che bello un picnic in una scatola! Forza, si mangia! Evviva! Il signor Leone adora il momento del pasto allo zoo! Tutti adorano il momento del pasto allo zoo! Qui è dove faremo il picnic! Sotto al nostro albero da picnic! È l'unico nel giro di chilometri! Però fa un gran caldo! Avete portato dell'acqua? Naturalmente! Ne abbiamo tutti bisogno! L'acqua è un bene prezioso qui nel deserto! Quindi non... Oh! È bella fresca! Sprecatela! Papà! La devi bere quell'acqua! Non si può usare per farsi la doccia! Oh! Non si preoccupi! Facciamo un bel picnic alla tipica maniera australiana! Oh! Che idea deliziosa! Dobbiamo raccogliere legna per il fuoco! Non c'è bisogno della legna! Quando si può usare il gas! Il signor canguro ha un barbecue a gas! Quando noi facciamo un picnic, prima o poi arriva anche la signora anatra! Oh! Non c'è pericolo che la signora anatra si faccia viva in mezzo al deserto! Oh! Questo animaletto si chiama ornitorinco! Da noi invece arriva sempre la signora ornitorinco quando facciamo un picnic! Il pranzo è pronto! Pannocchie arrostite per tutti quanti! Evviva! Peppa adora le pannocchie arrostite! Tutti adorano le pannocchie arrostite! È arrivato il momento di giocare! Certo! Hai ragione! Ecco la mazza da cricket! Oh! Voi giocate a cricket qui in Australia? Se giochiamo a cricket, chiede? Noi giochiamo a cricket dalla nascita! Cricket! Come si fa questo gioco? Colpendo la palla con la mazza! Se uno la prende, l'altro è fuori! Pronto, papino? Presa! Sei fuori! Tocca a te, Peppa! Grande tiro, Peppa! Oh no! La palla è finita sull'albero! È l'unico albero nel giro di chilometri e la palla è andata a incastrarsi proprio lì! Ti tiro su io, Peppa! Tu prova a vedere dov'è la palla! C'è un orsacchiotto che la tiene stretta, stretta in mano! No, ti sbagli! Non è un orsacchiotto, Peppa! Questo è un koala! Grazie mille! Il koala è l'animale più dolce che abbia mai visto in vita mia! Fare surf è la cosa che mi piace di più al mondo! È proprio vero! Fare surf è la cosa più bella del mondo! Pronti? Ai posti? Via! Anche George vuole andare in surf! Mi dispiace, George, ma tu sei troppo piccolo per fare surf! Le onde sono diventate troppo alte anche per Peppa e Kylie! Oh, allora è meglio tornare a casa! Sta scherzando? Le onde sono perfette per gli adulti che vogliono surfare! Fantastico! Ecco, è così che si fa surf! Queste onde sono meravigliose! Che bravi! Kylie, dove è andato il tuo fratellino? Eccolo laggiù con la mia mamma! Ti stai divertendo, Joy? Ora tocca a voi surfare, amici! No, no, grazie! A me basta guardare! Allora provi lei, signor Pig! E perché no? Deve essere molto divertente! Oh, non ci sono più onde! Che peccato, signor Pig! A quanto pare ha perso l'occasione di surfare! Oh, ma che disdetta! Ma così il mare è perfetto per far fare il bagnetto a George! Ecco, vengo io con te, George! Non puoi fare surf, ma puoi sederti sopra di me se ti va! George adora sedersi sul pancione di Papà Pig! Guardate quell'onda che sta arrivando! Caspita, è decisamente grossa! Papino, sta arrivando un'onda gigantesca! L'onda! 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 Cosa dicono? L'onda! L'onda! Credo vogliano che li salutiamo con la mano, George! Chiedetemi qualunque cosa riguardo alla frutta e alla verdura! Qualunque cosa! Qual è stato il palazzo più alto da cui sei saltato giù? Che cosa hai detto? Perché le carote mi piacciono così tanto? Te lo dico io perché sono una verdura davvero deliziosa! Tu sai correre più veloce di un treno? Qual è la verdura che fa correre più in fretta? La tua è un'ottima domanda! Fammi pensare, direi... Cavoletti di Bruxelles! Vorrei sapere se hai mai mangiato una patata! Frutta e verdura non è da scordare! Cinque volte al dì tu la devi mangiare! Chiaro? I dottori ora raccomandano di mangiarne sette porzioni al giorno! Ah, sette volte al dì tu la devi mangiare! Va bene così? Certo! Adesso fate un grande applauso a Super Patato per ringraziarlo di essere venuto qui oggi! Troppo buoni, troppo buoni! E ricordate ragazzi, mangiate frutta e verdura! Super Patato è volato via dalla nostra scuola! Oh, peccato! Me lo sono perso? Sì! Lui è stato fantastico! Beh, è stato molto bello incontrarvi, ma adesso è meglio che vada anch'io! Arrivederci! Andiamo, piccolini! Tu ti vuoi salutare il Signor Patato? Oh no! La macchina del Signor Patato non parte! Ah, non riesco più a uscire! Il Signor Patato è bloccato! Aiuto! Voglio uscire! Che cosa possiamo fare? Aiutatemi! Dobbiamo chiamare Super Patato! Fatemi uscire! Super Patato! Super Patato! Credo che sia troppo occupato per venire a salvarmi! No, silenzio! Ascoltate! Non penso che funzionerà questa volta! Ma Madame Gazella, anche lei lo deve chiamare insieme a noi! E va bene! Vieni ad aiutarci! Super Patato! Ecco, non funziona! Forse dovremmo... Cosa c'è lassù nel cielo? È un uccellino! È un aeroplano! No! Quella lassù è una patata! Per il potere delle verdure sono qui per voi! Credito! Non possiamo navigare oggi perché la nostra barca è affondata! Che disdetta! Perché non salite tutti a fare un giro sul mio Overcraft? Evviva! Veramente non credo che sia il caso! Tenetevi stretti i cappelli! L'Overcraft di Nonno Coniglio può andare sulla terraferma e sull'acqua! L'ho costruito tutto da solo! Non l'avreste mai immaginato, vero? Qual pezzo non serviva! Non può navigare con questo aggeccio qui intorno! Lei non è un socio del circolo verico! È vero! Ma lei lo è, se non sbaglio! Certo, ma... Allora è tutto a posto! Mario! Non c'è niente di meglio di una tranquilla veleggiata! Già, lo sciabordio delle onde, il meraviglioso silenzio del... Cos'è questo orribile rumore? Salve a tutti! Splendida giornata per un giretto! Ecco di nuovo quella mostruosità! Ma non è Nonno Pig, quello! Eh, salve! Come va? A tutta birra! Sentiamo! C'è qualcun altro che ha sete oltre me? Io! Io! Ho visto una vecchia baracca laggiù che vende succhi di frutta! Quella non è una baracca! È il chiosco del circolo verico! È riservato ai soli soci! Beh, cosa vuole che importi? Andiamo a prenderci un bel succo! Buongiorno, amico! Quattro bicchieri di succo, per favore! Temo di non poterla accontentare, signore, se non è socio del circolo! Io no, però lui sì! Eh, buongiorno! Quattro succhi, per favore! Ah, subito! Questa sì che è vita! Che ne dite? Il cielo azzurro, il mare e le barche che si vedono veleggiare! Ma qui non si vede nessuna barca veleggiare, nonno coniglio! Perché non c'è vento! E senza vento le barche a vela non possono navigare! Aiuto! 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 Dobbiamo salvare quei signori, nonno coniglio! Mammina! Papino, guardate! Ho ricevuto una stellina scolastica! Ma è una cosa fantastica, Peppa! Ricordo che Madame Gazella ha dato anche a me una stellina scolastica quando ero piccola! Tanto tempo fa, quando mamma e papà Pig erano piccoli, Madame Gazella era la loro maestra! Si merita proprio una stellina scolastica! Io ero talmente felice! Hai ricevuto tante stelline scolastiche, mammina! Oh, certo! Papino, hai ricevuto tante stelline scolastiche anche tu! Beh, è passato tanto di quel tempo ormai, non lo ricordo, mi dispiace! No, sono praticamente certa che tu non ne hai ricevuta nessuna! Tu non hai mai ricevuto una stellina scolastica, papà! No, mai ricevuto stelline scolastiche! Neanche una piccola piccola! No! Comunque, come ha detto papà Pig, è passato tanto tempo ormai, Peppa! E poi non è che siano così importanti! Ma che cosa dici, mammina? Sono molto importanti, invece! Non è vero, papino? Eh, certo, Peppa! Sei triste perché non hai mai ricevuto una stellina scolastica, papino? Beh, sai, nella mia vita ho fatto molte altre cose di cui essere orgoglioso! Mi è venuta un'idea! Se fai un bel disegno e lo fai vedere a Madame Gazzella, forse lei te ne darà una adesso! Le stelline scolastiche sono per i piccolini, Peppa, non sono per adulti! Ecco, ora il tetto della scuola è riparato! La ringrazio, signor Toro! Lei ha fatto a dir poco un meraviglioso lavoro! Merita una stellina scolastica! Oh, grazie, Madame Gazzella! Guarda, papino! Il signor Toro ha ricevuto una stellina e anche lui è un adulto! È sera! Peppa e George sono a letto! Pronto? Signorina Coniglia dell'Eli Soccorso! Il signor Patato vola via col palloncino! Aiuto! Aiuto! Arrivo immediatamente! Un momento, non posso fare un salvataggio vestita così? Chi vuole essere la regina del carnevale mentre io vado a fare un salvataggio? Io! 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 Ecco a voi! Secondo me è meglio se la faccio io la regina perché sono molto brava a comandare! Oh, anche io so comandare! Dovrei essere io la regina perché sono la più brava a fare il saluto! Perché non vi mettete d'accordo e fate tutte e tre la regina? E va bene! Io metto in testa la corona! E io mi siedo sul trono! Io invece indasso il mantello! Aiuto! Aiuto! La signorina Coniglio sta andando a salvare il signor Patato! Sto arrivando da sotto con l'elicottero! Ah! Faccio attenzione! Ops! Scusi tanto, signor Patato! Si tenga forte! La raggiungo da sopra! Signorina Coniglio! Mi dica qual è il suo piano! Io non faccio mai piani! Improvviso a seconda della situazione! Pilota automatico inserito! Buona giornata! Ora è il pilota automatico a guidare l'elicottero! Ciao! Arrivederci! Allora, come facciamo a far scendere questo palloncino? Lo faccio scoppiare? No! Non faccio scoppiare il palloncino! D'accordo, come vuole! Allora allenterò il nodo! La signorina Coniglio vuole far uscire l'aria dal palloncino! No! Ferma! Ferma! Fatto! No! La signorina Coniglio ha salvato il signor Patato! La ringrazio! Evviva! Ora posso tornare a fare la regina del carnevale! Oh, io direi che adesso abbiamo ben tre regine del carnevale! Questo è il miglior carnevale di tutta la mia vita! Peppa adora il carnevale! Tutti adorano il carnevale! Per esempio, quanti piccoli ci vogliono per sollevare Madame Gazelle? Uno! Io dico cento! E io dico mille! State tutti tirando a indovinare! Quanti ce ne vogliono allora? Ancora non lo so, ma potremmo servirci di un esperimento per scoprirlo! Chi vuole provare a sollevare Madame Gazella? Io! Io! No, non riesco a sollevarla! Madame Gazella pesa troppo per essere sollevata da un solo alunno! Adesso proviamo con due di voi! È davvero molto pesante! Madame Gazella pesa troppo per essere sollevata da due alunni! Ora proviamo con tre di voi! Isa! Evviva! Occorrono tre alunni per sollevare Madame Gazella! Questo era un esempio di esperimento scientifico! È stato divertente! Adesso proviamo con un altro esperimento! Sì! Fate una torre di cubi! Sì, molto bene! Ma quella torre è un po' traballante! Come rendiamo la torre meno traballante? Mettiamo i cubi più grandi sotto e i cubi più piccoli su in cima, così! Perfetto! Edmond Elefante è un sapientino! Possiamo fare altri esperimenti? Ma naturalmente! Ditemi qual è il vostro gioco preferito! Saltare su e giù nelle pozzanghere di fango! E che cosa ci serve per creare una pozzanghera di fango? Un po' di terra e dell'acqua! Della terra e un po' d'acqua! Adesso le mischiamo per creare una pozzanghera di fango! Peppa, fai un test della pozzanghera! Questa pozzanghera è troppo asciutta! Allora aggiungiamo ancora un po' di acqua! Ora salta di nuovo, Peppa! Adesso questa pozzanghera è perfetta! Bella e fangosa! E le pozzanghere di fango si fanno pressa a poco come si fa il cemento! Questo è l'orto di carote del signor coniglio! Ascoltatemi bene! Il coniglio pasquale è molto timido e non verrà se lo guardate! Andiamo ad aspettare dentro! La casa di Rebecca coniglio è sottoterra! Senti, Rebecca, ti è mai capitato di vedere il coniglio pasquale? No! Ma il coniglio pasquale è un coniglio, giusto? Certo! E anche tu sei un coniglio, no? Certo! Secondo te chi aspetto ha? Io penso che assomigli a me! Solo un po' più grande! Io credo che il coniglio pasquale abbia un razzo sulle spalle! Già! È un coniglio coi superpoteri! Io credo che il coniglio pasquale abbia una bacchetta magica! E io credo che il coniglio pasquale debba essere molto grande per trasportare tutte quelle uova ovunque! No, io credo che il coniglio pasquale sia invisibile! Cosa? Invisibile significa che non si può vedere! Molto divertente! Qualcuno sta nascondendo un uovo! Deve essere il coniglio pasquale! Mi piacerebbe poter vedere il vero coniglio pasquale! Forse lo possiamo vedere se guardiamo dalla finestra! Sì! Ma io non riesco a vedere un bel niente! Non riusciremo mai a vedere il coniglio pasquale! Ricordate, non dovete sbirciare! Scusa, mammina! Ciao a tutti! Oh, ciao, papà coniglio! Come stanno le tue carote? Quali carote? Le carote che sei andato a controllare! Oh, stanno benissimo! Papà, sei riuscito a vedere il coniglio pasquale? Eh, no, ma sono più che sicuro che il coniglio pasquale è già arrivato ormai! Pensi che possano cominciare la caccia alle uova in giardino? Oh, certo! Direi proprio di sì! No, papino! Il mio deve essere un castello bello! Peppa, che ti ha detto di fare esattamente, Madame Gazella? Ci ha detto che dobbiamo usare la nostra immaginazione! Ed è un castello meraviglioso quello che ho immaginato per me, papino! E il mio castello deve essere abbastanza grande da poterci vivere dentro! Sì, capisco! Oh, cielo! A casa di Susi Pecora è ora di colazione! Madame Gazella ti ha detto di costruire un vero palazzo delle principesse! Sì! Anche con tutti quei pezzi complicati! Salve, buongiorno! Pronto? Mi dispiace, ma oggi non posso venire al lavoro a causa di un progetto scolastico! Per sua figlia? Sì, esatto! Serve aiuto? Grazie, ma credo di essere in grado di cavarmela! Così voglio che diventi il mio castello, però molto, molto più grande! Se deve essere così grande, bisognerà usare del cemento! No, Papà Pig, dobbiamo soltanto trovare uno scatolone delle dimensioni giuste! Abbiamo una scatola così grande? Ehm, no! Salve, una consegna per Papà Pig! Non ricordo affatto di aver ordinato una cosa tanto grande! Ah, ecco, certo, è la nuova lampadina! Come mai usano imballaggi così grandi per oggetti simili? Vuole che porti via io questo scatolone? Oh sì, la ringrazio molto! No, papino! Serve a noi questo scatolone! Guarda che cosa ho trovato! Bene, così il tuo castello è quasi fatto! Evviva! Non è per niente quasi fatto! Dobbiamo incollarci delle cose sopra, dipingerlo, aggiungere la porporina... Corporina! Pronto? Pronto! Posso parlare con Peppa, per favore? Per te, Peppa! Susi Pecora! Ciao, Susi! Tutto bene? Come sta andando il tuo progetto scolastico? Sta andando benissimo! Ci vogliono più torri, mamma, e devono essere molto più alte! Il tuo castello a che punto hai, invece? È un lavoro molto difficile, ma per fortuna la mia mamma e il mio papà mi stanno aiutando un pochino! Attenti a dove andate! Dovete sempre tenere occhi e orecchie bene aperti! E ora... Stop! Ottimo lavoro, piccolini! Allora, supponiamo che stiate guidando la vostra bicicletta e che qualcuno vi compaia davanti all'improvviso... Che cosa fate? Io lo so! Suono il campanello! Giusta risposta! Suonare il campanello comunica agli altri che state passando! Volete farmi sentire quanto siete bravi a suonare i vostri campanelli? Io non ho un campanello, ho una trombetta! La trombetta va bene quanto il campanello! Potresti dare un colpetto leggero di trombetta in modo da farci sentire... Sì! Dovrebbe essere sufficiente ad avvisare i passanti che stai arrivando! E ora passiamo all'ultima parte della lezione! Ma dove sta andando? L'agente di polizia Panda porta la macchina ai piedi della collina! Chiamata per l'agente di polizia Scoiattolo! Passo! Riesci a sentirmi? Passo! Sì, agente Panda! Ti ricevo forte e chiaro! Passo! Gli agenti hanno dei telefoni speciali per parlarsi tra loro! Mi trovo in posizione! Passo! Adesso, quando fischierò, voglio che andiate tutti in bicicletta giù per la collina... ...usendo i freni, mi raccomando! Per evitare di investire l'agente di polizia Panda! Riccevuto! Agente, i piccoli arrivano! Passo! Sì, li vedo benissimo! Passo! Avete frenato tutti alla perfezione! Sei pronto per l'arrivo di Madame Gazella? Passo! Falla pure scendere! Passo! Eh, non credo che questo sia necessario! Io sono l'insegnante e non dovrei... Vada, coraggio! Occhi e orecchie ben aperti! Occhi e orecchie ben aperti, sì! E' viva! Com'è divertente! Suoni il campanello! Oh, sì, certo! Il campanello! Ma tu ce l'hai una palla? No! Non fa niente! Faremo finta di giocare con una palla finta! Dai, prendila, Danny! Ora le do un calcio fortissimo! Ciao a tutti! Ed ecco Rebecca Coniglio! Ciao, ciao, Rebecca! Lo sai, noi stavamo giocando con una palla finta! Ma poi, Danny, con un calcio l'ha tirata laggiù! Davvero? Io so un altro gioco dove si fa finta! Voi dovete indovinare chi sono! Tu sei un coniglio! Ma no! Io faccio finta di essere qualcun altro! Sei per caso un asinello? No! Sei un elefante con la pelliccia? No! Sei un raggio spaziale? No! Puff! Ci vorrà un sacco di tempo per indovinare, secondo me! Chiedetemi se sono grande! Sì, sei grande? No! Vi darò un piccolo indizio! Io sono un vegetale! Ci potresti dare un altro suggerimento? Chiedetemi se sono una carota! Tu sei una carota? Esatto! E li va! Anche George vuole giocare! George, tu devi fare finta di essere quello che vuoi e noi dobbiamo indovinare che cosa sei! Sei un dinosauro! Così è troppo facile, George! Pensa che puoi far finta di essere qualsiasi cosa esista al mondo! George sta pensando! Sei un dinosauro! Ciao a tutti, amici! Arriva Pedro Pony! A cosa state giocando? Giocavamo a far finta di essere qualcosa! Ma temo che adesso questo gioco sia finito! A te, invece, quale gioco andrebbe di fare, Pedro? Vorrei saltare su e giù nelle pozzanghere di fango! Sì! Andiamo a cercare le pozzanghere di fango! Oh, ma qui non ci sono pozzanghere! Serve la pioggia per fare le pozzanghere! Possiamo fare finta che stia piovendo! Le gocce, la pioggia, esce in me giù e fa flu flu! Plim, 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 plim! Possiamo andare a scuola con il monopattino, ti prego, papà! Buona idea! Passerebbe anche un ottimo allenamento! Evviva! Pronti ai posti? Via! Aspettatemi! Ci vediamo dopo, mamma Pig! Ciao, a più tardi! Peppa e Giorgio vanno a scuola col monopattino! Non così, in fretta! Sprigati, papino! Papino, non ce la fa! Aspettatemi! Peppa e Giorgio arrivano a scuola! Ciao, ciao, papino! Ciao, ciao! Ciao! Che fatica! Non mi resta che tornare a casa a piedi! Quanto vorrei avere delle ruote a disposizione! Un momento! Ma io ho delle ruote! Whee! Questo sì che è divertente! A papà Pig piace andare in monopattino! Brum, brum! Whee! Papà Pig, stai andando sul monopattino di Peppa! Sì! Andare in monopattino è divertente! Dovresti provarci anche tu qualche volta! Peppa e Giorgio stanno facendo un disegno a scuola! Madame Gazella, noi oggi siamo venuti a scuola con il monopattino! Molto bene, Peppa e Giorgio! È una splendida idea! Fate tutti un bel disegno su come siete venuti a scuola oggi! Io sono venuta in bicicletta! Benissimo! Io sono venuta a piedi! È così bello respirare l'aria fresca al mattino! Mio nonno mi ha accompagnato con il carroattrezzi! Brum, brum, brum! Aha! Delizioso, Danny! Mia cara Peppa, ecco qua la tua zucca! Nonno, è enorme! Questa è la zucca più grande che esista in tutto il mondo! Beh, sì, è possibile! Ma come faremo a portare questa gigantesca zucca fino alla scuola, nonno Pig? Calma! Un passetto alla volta, nonna Pig! Prima trasformiamo la zucca di Peppa in una splendida lanterna! Oh, bello! Quindi, per prima cosa, devo togliere tutto ciò che è all'interno! Adesso intagliamo il volto! E mettiamo dentro una candela per illuminarla! È molto carina! E infine la carichiamo sulla nostra macchina! La zucca è molto, molto pesante! Fatto! Il primo passo è completato! Abbiamo portato la zucca fuori dalla serra! Il passo numero due consiste nel sollevarla e caricarla in macchina! La zucca è impossibile da sollevare! L'avevo detto che era troppo grande! Non è troppo grande! Abbiamo soltanto bisogno di un aiutino! Pronto? Servizio di elisoccorso della signorina Coniglio! Signorina Coniglio! Per favore, venne al nostro soccorso! È molto, molto importante! La prego, faccia presto! Ecco, mi sto arrivando! Tutti gli scolari hanno portato a scuola le lanterne fatte con le zucche! Benvenuti alla gara di zucche della scuola! Se non dobbiamo aspettare nessun altro, direi di cominciare! Ma Peppa non c'è! Oh! E dove sarà finita? L'elicottero di soccorso della signorina Coniglio è arrivato alla serra di Nonno Pig! Allora, chi deve essere salvato? La mia zucca, eccola! Dobbiamo assolutamente farla arrivare alla scuola di Peppa in tempo per partecipare alla gara! D'accordo! La signora Anatra sta andando più veloce della nostra barca! Vuole gareggiare con noi, signora Anatra? Allora, a tutto a vapore! Questa barca non può andare un po' più veloce? No, questa è la velocità massima! Comunque, forse dovresti rallentare! Ci stiamo avvicinando a una montagna! Ha ragione! C'è una montagna davanti a noi! Finiremo per schiantarci contro! No! Entreremo dentro questo tunnel! C'è un tunnel che attraversa la montagna! Qui dentro è tutto buio! E senti come sono buffe le nostre voci! Bello! Abbiamo navigato nel cuore di una montagna! Devo riconoscere che questa chiatta è molto divertente! Guardate! Laggiù c'è un'altra montagna! Questo significa che c'è di sicuro un altro tunnel! Non questa volta! Oh! Non c'è nessun tunnel! Allora, che cosa facciamo? Semplice! Passiamo dall'altra parte! No! Non esiste al mondo che una barca possa passare dall'altra parte! Ti sbagli, invece! Grazie alla chiusa! Guardate! Vi faccio vedere! Mamma cane apre il cancello della chiusa! Avanza pure, capitano! Aspetta lì mentre io chiudo il cancello della chiusa! Adesso faccio entrare l'acqua per far salire la chiatta! Guardate! Stiamo salendo! L'acqua entrando solleva la chiatta! Adesso apro questo secondo cancello! Avanza pure, capitano! Avanti a tutto vapore! Oh! Dov'è finita la terraferma? Navighiamo nel cielo! Stiamo passando sopra un ponte! Esatto! Grazie a questo ponte possiamo navigare sulla valle sottostante! Ah ah ah! Navigare su nel cielo! Può esistere un'avventura più fantastica di questa! Ti imbarca su nel cielo! Ve ne mostro un'altra che richiede una grande abilità per essere coltivata! Una pianta di pomodori! Ma mi sembrano piccolissimi, nonno! Tieni, Peppa! Assaggiane uno e dimmi che sapore ha! Provalo! Vediamo! Ha il sapore... di niente! A dire il vero, non sono ancora del tutto maturi! Buongiorno, nipotini miei! Ciao, nonna Pig! Per favore, potrei avere qualche pomodoro? No, temo che i pomodori non siano ancora maturi! Forse aspettando qualche settimana... Ma volevo fare un'insalata di pomodori per pranzo! Anche nonno cane coltiva i pomodori, nonnina! Già! Può darsi che nonno cane ce le possa dare qualcuno! Non avrai mica intenzione di chiedere a nonno cane coi suoi vecchi pomodori avvizziti! Ehi là! Nonno cane, ciao! Oh, salve nonna Pig! Sono felice di vederla in questa splendida mattinata! Avrebbe dei pomodori da prestarmi? Da prestarle! Lei può raccogliere tutti i pomodori che desidera! I pomodori hanno fatto una magnifica riuscita quest'anno! Sembrano molto più grandi dei tuoi pomodorini, nonno Pig! Saranno anche più grandi, ma questo non significa che siano anche più buoni! Peppa, ti andrebbe di assaggiarne uno? Sì, molte grazie! Delizioso! Nonno cane, questo è il pomodoro più buono che abbia assaggiato in tutta la mia vita! Qual è mai il segreto di questi pomodori? Io non avevo intenzione di coltivarli, ho solo messo dei vecchi semi di pomodoro in quell'angolo e loro sono cresciuti! Riempia pure il suo cestino, sono troppi per me! La ringrazio, farò una gustosa insalata di pomodori! Ah, io conosco un'ottima ricetta per l'insalata di pomodori! Meraviglioso! Ce la può fare lei? Il problema è che per la mia ricetta serve il basilico e purtroppo non ho pensato a coltivarlo! Mio nanna ha una montagna di basilico profumato! Sul serio? Oh, certo! Ne ho un mucchio dentro la mia serra! Vieni a vedere! Volete fare un giro? Certo! Magari! D'accordo! Tutti a bordo! Che bello! Qui ci sono tutti i colori dell'arcoboleno! Quello si chiama corallo! Il corallo è composto da tante, tantissime minuscole creature! E la distesa di corallo si estende per chilometri e chilometri! La chiamiamo la grande barriera corallina! Il mio lavoro consiste nel proteggere il corallo! Possiamo portarci a casa un po' di corallo? Mi dispiace, Peppa! Noi possiamo guardarlo, ma è vietato toccarlo! Se ogni visitatore si portasse a casa un pezzetto di corallo... E presto tutto il corallo scomparirebbe! Non bisogna mai e poi mai portare via qualcosa dal fondo del mare! Ah! Guardate! Che bei pesciolini! Sono pesci pagliaccio! Pesci pagliaccio? Beh, è vero! Fanno ridere! Guardate laggiù! Una grande stella marina blu! E lì ce ne è una piccola rossa! E una verde con tante punte! Quello cos'è? Quella è una tartaruga! Buongiorno, signora tartaruga! Mi dica, come sta oggi? Hai visto, Peppa, come sono fortunata a lavorare in un posto tanto meraviglioso? Guardate! Lì c'è un arco! Proprio come nel vostro acquario! Hai ragione, Peppa! Qui è quasi come essere in un acquario! Manca solamente il forziere col tesoro! Che cosa hai visto, George? Si direbbe un forziere pieno di monete d'oro! Accipicchia! George ha trovato un forziere col tesoro! Hai visto, papino? In fondo al mare è tutto uguale all'acquario! Oh, è vero! Quell'oro deve valere una fortuna! Dovrei essere in grado di tirarlo su! Se è così, perché è tanto alto allora? Sono tanto alto perché sono una giraffa! Io sono più alta! No, non è vero! Invece sì! Bisogna misurare la punta delle orecchie! Oh, contano anche le orecchie! Gerald Giraffa è comunque più alto! Oh, io vorrei essere alta come Gerald! Anch'io! 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 È il momento della ricreazione! Dai, giochiamo al nascondino! Va bene! Uno! Mentre Peppa conta fino a dieci, tutti devono trovare un posto dove nascondersi! Otto! Nove! Dieci! Uno, due, tre! Chi non ha fatto resta a me! Tana per Gerald! Non mi hai trovato! Neanche a me! Neanche a me! Neanche a me! Neanche a me! Io invece vengo scoperto perché sono troppo alto! Peccato! Non è molto divertente essere così alto perché mi devo sempre abbassare per parlare con gli altri! Anch'io mi devo abbassare per parlare con il mio fratellino! Ciao, piccolo George! Dimmi, com'è essere così bassi? Dai, giochiamo a palla! Sì! Magari io vengo a giocare dopo! Gerald Giraffa non vuole giocare perché è triste! Prendila, Danny! Attento, arriva, Pedro! Prendi questa, Peppa! La palla si è incastrata su un ramo! Non riesco ad arrivarci! Aspetta, ci provo io! No, per me è troppo alta! Cosa facciamo ora? Io lo so, buttiamo giù l'albero! No! Io ci posso arrivare con la mia proboscide! No, non ce la faccio! Se Emily non riesce a raggiungerla con la sua proboscide, allora non riprenderemo più la palla! Che cosa possiamo fare? Buttiamo giù l'albero! Ve l'ho già detto! Se soltanto esistesse qualcuno così alto da raggiungere la palla! Gerald! Che cosa? Tu puoi sicuramente raggiungere la palla perché sei alto! Ci posso provare! Nonno Pig resterà da solo! Qui c'è del cibo in scatola! Per tirarlo fuori avrai bisogno di questo oggetto! Ecco, è un apriscatole! So bene che cos'è quello, nonna Pig! Se invece vuoi bollire un uovo, devi riempire un tegame d'acqua e poi... Sì, so bene anche questo! Nonna Pig! Buongiorno, nipotini miei! Abbiamo portato la spesa! Come mai non sei all'aeroporto, nonna? Oh, già! Sarà meglio chiamare un taxi! Qui, servizio taxi! Buongiorno, nonna Pig! Io dovrei andare all'aeroporto, per favore! Ma naturalmente! Si accomodi! Grazie molte! Papà, possiamo andare anche noi all'aeroporto per salutare la nonna? Sì, va bene! Ciao, ciao! Ciao, nonna! Mi avete detto all'aeroporto, vero? Sì, e per la verità avremmo un po' di fretta! Si corre di qua, si corre di là! Chissà perché la gente ha sempre tanta fretta! Nonna Pig deve prendere l'aereo! Sì, sta partendo, va in vacanza! In vacanza? Io non ho mai il tempo di andare in vacanza! Sono troppo impegnata ad avere fretta! Signorina Coniglio, sta parlando un'altra volta come parlano tutti i tassisti! Esatto! Il taxi arriva all'aeroporto! Arrivederci, nipotini miei! Ciao, ciao, nonnina! Ciao, ciao! Peppa e George salutano la nonna con la manina! Arriva il signor lupo! Taxi! Si accomodi! Ciao, ciao, signor lupo! A Peppa e George piace salutare con la manina! Ciao, ciao! Papino, noi come facciamo a tornare a casa? Prendiamo il taxi! Oh, se ne è andato! È stato in vacanza, immagino! A dire il vero, sono piuttosto stanco! Se non le dispiace, eviterei di parlare! Parlare? Certo! La gente parla troppo di questi tempi! Lei non trova parlare, 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 parlare! Pare che ci siano persone che possono parlare per ore senza prendere mai il fiato! Mia sorella, per esempio, può parlare pronto? Qui servizio taxi! Hai salvato il lavoro, vero, mamma pig? Oh, no! Non ho cliccato salva! 47 10 milioni 112! Sei stato bravissimo, George! Questo è il punteggio più alto di sempre! Dov'è il lavoro? Il mio lavoro? Ah, eccolo qui! Presto! Salva, chiudi, invia! Fatto! Il tuo lavoro è tutto salvo, mammina! Sì, Peppa! L'ho appena inviato per trasformarlo in un vero libro di fiabe! Oh! Un vero libro di fiabe! Non un libro soltanto, ma tante, tante copie del libro che andranno in tutte le librerie del mondo! Davvero? Mammina, per favore, puoi leggerci la tua storia? Certo, Peppa! Verrò a leggere la mia fiaba a te e ai tuoi amici domani a scuola! Mamma Pig è arrivata a scuola con tantissime copie del suo nuovo libro! La ringrazio, Mamma Pig, di essere venuta qui oggi a leggerci il suo nuovo libro! Sono così emozionata, Madame Gazella! I libri sono appena arrivati, non ho fatto in tempo ad aprirli! Piccolini, Mamma Pig ha lavorato duramente per scrivere questo libro, quindi dobbiamo ascoltare il racconto educatamente anche se non dovesse essere un granché! La ringrazio! È la storia di una cipolla! Dunque, c'era una volta una cipolla che si chiamava Cipolla Buffetta! 4, 7, 6, 8, 5, 9... Il resto del libro è un unico lunghissimo numero! Io però non ho capito niente! Questo non è quello che ho scritto! Che significa 4, 7, 6, 8, 5... Punteggio che ha fatto Giorgia Gallinella Felice, quello! Ah, cipicchia! Che punteggio alto! Dov'è la mia fiaba di cipolla Buffetta? È sparita! Mi spiace, piccoli, oggi non vi posso leggere la fiaba di cipolla Buffetta! Oh, no! Prego, da questa parte! Avviatevi verso il castello dove sarete raggiunti da un cavaliere con l'armatura! Benvenuti! È il signor Coniglio vestito da cavaliere con l'armatura! Cominceremo la visita al castello da qui, davanti a questo cannone! Nei tempi antichi il cannone veniva utilizzato per sparare queste pesanti palle di cannone in aria fino al cielo! Papino, credi che sparerà davvero con il cannone? No! Sarebbe un'assurdità, Peppa! Bene, adesso diamo fuoco alle polveri! 5, 4, 3, 2, 1, fuoco! Ha quasi colpito la nostra auto! Come abbiamo avvisato, il parcheggio della vettura è a vostro rischio! Proseguiamo con la visita! Avrete modo di osservare tutte le meraviglie di questo castello e di ammirare un vero banchetto medievale! Che bello, un vero banchetto medievale! Non riesco a crederci! È una prospettiva deliziosa! E poi incontrerete un drago! Ecco, questa è la sala del trono, dove un tempo sedevano il re e la regina! Chi vuole provare a sedersi sul trono? George può fare il re e io sarò una regina che dà ordini a tutti! Tu fai questo, tu fai quello! Vostra maestà, posso proseguire con la visita? Sì, te lo concedo! Adesso dovremo passare attraverso un passaggio segreto, ma prima è fondamentale trovare il passaggio segreto! Vediamo, in più delle volte questi passaggi segreti hanno un meccanismo super segreto che consente di aprirli! Non credo che si tratti di quel grosso pulsante rosso! Sarebbe troppo facile da trovare! Già, noi preferiamo la semplicità! Com'è divertente! Questo passaggio ci ha condotti fino alla sala da pranzo! Quante delizie! Immagino che questo sia il banchetto medievale! Già, e ha un aspetto molto invitante! Ma è tutto di plastica, è finto! Peppa e George sono tornati a casa! Mammina, sai il tetto della scuola gocciola un'altra volta! Dici davvero, tesoro? Sì, e madame gazzella dice che serve una montagna di soldi per ripararlo! Certo, sono sicura che è così! Ha chiesto se qualche mamma o papà vorrebbe lanciarsi con il paracadute! Peppa, spero che tu non le abbia detto che papà sarebbe disposto! Lo sai quanto gli dà fastidio l'altezza! Ma l'altezza a te non dà fastidio, non è vero, mamma? Sì, con l'altezza non ho problemi! Perfetto! Mamma Pig la ringrazia infinitamente per aver accettato di lanciarsi col paracadute! Cosa? Ma io non l'ho mai fatto finora! Sarà bravissima! Si ricordi che lo fa per aiutare i piccoli! Oh! E in questo caso lo farò molto volentieri! Un bel ora per mamma Pig! È il giorno del lancio di mamma Pig con il paracadute! Non sono ancora del tutto sicura di voler fare questo lancio! Si ricordi che è per una buona causa, mamma Pig! Ma io non so proprio come si fa a saltare giù da un aereo! Non si preoccupi! Lei farà tantissimo allenamento prima! Buongiorno, mamma Pig! Il signor coniglio è un istruttore di paracadutismo! Questo è un normale paracadute! Servirà ad aiutarla a volteggiare in aria dopo che avrà saltato! Non crede che dovrei fare un po' di pratica? Pratica in cosa? Nel salto! Perché no? Brava! Le viene naturale! Basta! Non c'è altro! È sufficiente! È una saltatrice esperta! Evviva! Tutti a bordo! Sono ancora un tantino preoccupata per questo lancio, papà Pig! Andrà tutto bene, mamma Pig! E per incoraggiarti salgo insieme a te! Buona fortuna, mamma! Non ti preoccupare, mamma Pig! Tieni sempre a mente che hai indosso il paracadute! Va bene, papà Pig! Siamo molto distanti dalla Terra!